I governanti devono chiedere la saggezza per governare e il popolo li deve sostenere con la preghiera. Così Papa Francesco celebrando la messa a Santa Marta. Nel corso dell'omilia il pontefice ha chiarito che tutti hanno bisogno di un sostegno orante anche e soprattutto quanti al potere non si comportano secondo le regole del vivere comune. I governanti a loro volta dovrebbero pregare o almeno confrontarsi con la propria coscienza, con gli altri, con i saggi per non essere autoreferenziali chiusi nel piccolo gruppo del partito. Io vi chiedo un favore, ognuno di voi prenda oggi cinque minuti, non di più. Se è governante si domanda. Io prego a quello che mi ha dato il potere tramite il popolo se non è governante. Io prego per i governanti. Sì per questo e per questo sì perché mi piace, per quelli no. Hanno più bisogno di quelli di questo. Prego per tutti i governanti. E se voi trovate, quando fate l'esame di coscienza per confessarti, che non avete pregato per i governanti, porta quello alla confessione. Perché non pregare per i governanti è un peccato.